Sotto il progetto del Canottieri si affrontano i padroni di casa della Marra e il San Marco Padule, nel match valevole per la quattordicesima giornata del Gironiali Promozione. Giallorossi che cercano i tre punti per avvicinare la zona playoff, ospiti con l'intenzione di restare tra le posizioni nobili della classifica. A dirige l'incontro è il signor Cursi della sezione di Perugia, con il voto dagli assistenti Neimi e Massini. La prima occasione della partita se la procura il San Marco al diciassettesimo. Grande accelerazione sulla sinistra di Battistelli che crossa forte al centro. Pierotti non trova il pallone e alle sue spalle Baldoni rischia lo sfortunato otto gol. Ancora ospita il ventitresimo in avanti. L'angolo della sinistra di Battistelli trova lo stacco di Corazzi che prova a piazzare. Sicuro ne ha presa Cocchini. Calzuola schiera i suoi con un canonico 4-3-3, in porta Radicchini in difensiva con Bettelli, Bianconi, Marchi e Giacometti, Biscontini, Ercoli e Corazzi in mezzo, tridente con Bellucci, Pierotti e Battistelli. Al ventisettesimo sempre San Marco in attacco. Corazzi raccoglie un pallone vacante ma non colpisce bene col destro, sparando il pallone così lontano dallo specchio e sprecando una buona opportunità. Risponde la scuola di casa due minuti più tardi. Miccio si libera con uno schema su calcio d'angolo e crossa forte in mezzo, trovando Ragni sul secondo palo. Il copo di destra del difensore però non incora la porta. Sul proseguo dell'azione successivamente la difesa ospite si salva. Marra invece schierata in campo con un 4-3-3, Cocchini tra i pali, in difesa Baldoni, Ragni, Fuscagni, Velez, Macias, Miccio, Torriziani e Picciaro centro campo, federisce il terminale offensivo con nei suoi lati Ardoni e Sorella. Al quarantesimo l'occasione più grande della rinforazione è sui piedi di Pierotti, che controlla e si gira. Risponde presente Cocchini che si supera poi anche sulla successiva ribattuta, respingendo da pochi passi la conclusione di Bellucci, che però era comunque stato pescato in fuorigioco. Con le riprese e il montaggio di Leonardo Cesaroni passiamo alla ripresa. Pronti via e dal primo la partita si sblocca. Il cross di Piccioli trova la deviazione aerea di Federici, che spizza i poloneri di quel tanto che basta per battere l'incolpevole Radicchi. La risposta degli ospiti arriva al 14esimo. Bettelli riceve in area di rigore e si gira sul mancino con un movimento d'attaccante. La sua conclusione viene respinta in angolo da un attento Cocchini. Torna a farsi vedere in attacco la formazione di gelosia al 29esimo. Elegante giocata di Federici che si libera di un avversario con un sombrero, ma poi colpisce malissimo il pallone che termina così tra le braccia di Radicchi. Al 33esimo arriva il pareggio degli ospiti. Dopo che la difesa di casa libera un corno in insidio sui Battistelli, la palla arriva al limite dell'area, dove Marchi si coordina il volo col sinistro e spedisce la palla all'angolino, realizzando un gol semplicemente fantastico. Al 40esimo ancora Padule pericolosi in contropiede. Fuga di Bellucci sull'auto di destra, che però poi con il sinistro non inquadra la porta. Al 45esimo arriva l'ultima occasione del match ed è clamorosa ed è per la Marra. Il suo entrato Marco Surella sul destro la palla del vantaggio, ma trova l'opposizione in stile portiere di hockey di Radicchi. Termina così in parita l'incontro. Marra-Padule 1-1. Mister, partita molto equilibrata. Un po' di rammarico per aver subito un euro-goal, però il pareggio penso sia risultato più giusto. Sì, per i valori espressi in campo alla fine il pareggio ci può stare. Come hai detto, rimane un po' di amaro in bocca perché eravamo riusciti a portarla fino al 33esimo, subendo qualcosa, ma nemmeno chissà che. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Loro sono una delle squadre più forti che abbiamo affrontato, però gli abbiamo tenuto testa, a mio parere, in maniera ottima, creando anche le nostre occasioni. Potevamo essere più cinici anche nel finale. Sull'1-1 abbiamo avuto la palla per fare 2-1, ma ce l'hanno avuta anche loro. Però salvo soprattutto la prestazione della squadra e l'atteggiamento, che è stato veramente battagliero, ripeto, contro un'ottima squadra. Mister, partita combattuta, anche su un campo abbastanza pesante. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? È stato al campo bellissimo. Forse un po' piccolino, ma veramente con tutta questa pioggia si è giocato veramente bene. È un bellissimo fondo. È stata una parida combattuta. Abbiamo avuto l'ultima mezz'ora un bel forcing. Abbiamo fatto sempre sulla metà campo avversaria. Abbiamo avuto l'occasione anche per fare il 2-1. Poi alla fine in contropiede qualcosetta abbiamo rischiato, però noi facciamo sempre buone prestazioni. Andiamo avanti per la nostra strada. Il campionato è ancora lungo e oggi è un buon risultato.